cari amici buongiorno e volevo leggere un versetto dal salmo 19 il versetto 1 che dice i cieli raccontano la gloria di dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani Stephen Hawking è conosciuto come l'astrofisico più famoso del mondo e considerato da molti come l'erede di Newton e nel suo ultimo libro pubblicato nel 2018 poco dopo la sua morte intitolato brief answers to big questions in italiano tradotto come le mie risposte alle grandi domande si chiedeva esiste un dio l'universo aveva bisogno di un creatore la risposta che dà è un clamoroso no e dice in accordo con le leggi della scienza io ritengo che l'universo si sia spontaneamente creato dal nulla e dunque non è stato dio a crearlo nel salmo di davide uomo di tremila anni fa senza lauree senza telescopi senza l'aiuto di secoli di letteratura scientifica di studi sull'universo troviamo invece le indicazioni per dare la risposta alla grande domanda di Stephen Hawking esiste un dio il piccolo salmo ci lascia come una mappa in una mappa i tre universi dove cercare dio e la sua gloria è la teoria del tutto biblica il primo dei tre universi come abbiamo letto è quello sopra le nostre teste quello più familiare agli scienziati perché i cieli raccontano la gloria di dio e il cielo stellato è il migliore predicatore dopo gesù cristo dio c'è noi non lo scriviamo su primuri perché già scritto nel cielo ma ciò non basta e la maggior parte degli uomini come Stephen Hawking si fermano lì rinunciano a dio o rimangono per tutta la vita con quel grande immenso interrogativo il secondo universo da esplorare è quello della sua parola sempre nel salmo 19 al versetto 7 leggiamo la legge del signore perfetta essa ristora l'anima la testimonianza del signore veritiera e rende saggio il semplice se il cielo stellato parla di dio la bibbia ci lo presenta che esperienza che emozione la scoperta dell'universo della parola di dio ma anche questo non basta potresti essere un buon religioso conoscere le scritture ma ancora non conoscere dio come ha fatto davide devi avere il coraggio di esplorare il terzo universo e l'ultimo che è quello dentro di te la bibbia dice che dio creò l'uomo a sua immagine e a sua gloria ed allora dopo aver considerato il cielo stellato che parla di dio la sua parola perfetta che lo presenta davide dopo essersi guardato dentro si chiede al versetto 12 chi conosce i suoi errori dalle stelle del cielo alle stelle dei nostri errori e davide ha considerato il cielo e ha visto la gloria di dio ha considerato la legge del signore e ha visto la perfezione di dio ha considerato se stesso e ha scoperto di essere pieno di errori e di avere rovinato con le sue azioni con le sue parole i suoi pensieri quella gloria quell'immagine che dio ha messo dentro di lui e ha messo anche dentro di te e dentro di me così dalle sue labbra esce spontaneamente una preghiera purificami mi sento sporco davanti alla tua gloria mi sento difettoso davanti alla tua perfezione e il salmo termina con una bellissima espressione di vittoria signore dio tu sei non solo esisti ma sei il mio redentore tu mi hai liberato dei miei errori dalle mie domande senza una risposta e dalle mie paure caro amico cara amica per rispondere la domanda esiste un dio non serve una laurea in astrofisica serve il coraggio di esplorare i tre universi quello della sua gloria sopra di te della sua gloria nella sua parola e della sua gloria dentro di te e se come davide questa mattina scopri che la sua gloria in te è oscurata dal peccato e dei tuoi errori puoi fare proprio adesso una preghiera di una sola parola purificami ma falla con tutto il cuore e scoprirai che non solo dio esiste ma che lui è anche il tuo redentore e con questo augurio ti auguro una buona giornata e che il signore ti benedica